Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di verticale. In un video precedente avevamo visto alcuni aspetti di questo elemento al muro. Oggi andiamo a vedere alcune strategie che possiamo usare per iniziare ad approcciarlo invece fuori dal muro. Quindi praticamente andremo a parlare di verticale libera. Il prerequisito essenziale per questo elemento è saperla controllare in qualunque contesto ci si trovi. E per saperlo fare dobbiamo conoscere il modo per non cadere. Che sarà essenziale per evitarci la caduta quando noi dalla verticale perdiamo l'equilibrio. Andiamo quindi adesso a vedere come possiamo approcciare questo elemento usufruendo in un primo momento del muro. Allora al muro effettiamo semplicemente delle verticali pancia al muro. E da questa verticale cerchiamo in un primo momento tenendo le mani distanti rispetto al muro di effettuare uno spostamento di sbilanciarci da un lato con un piede alla volta. In pratica effettuiamo uno sbilanciamento laterale apposta. Qui dovremo stare particolarmente attenti a scendere con un piede alla volta. Infatti la sequenza alternata quindi un piede e un piede ci permette di scaricare peso in modo abbastanza delicato. Invece se scendiamo con tutti e due i piedi in uno stesso momento la caviglia accuserà sicuramente il colpo. Ed effettuiamo semplicemente uno sbilanciamento laterale. Man mano che questo esercizio diventa semplice e ci troviamo a nostro agio quello che possiamo fare è avvicinare via via le mani al muro sempre di più. E quindi iniziare anche a effettuare lo stesso esercizio con le mani più vicine. Quando a un certo punto arriveremo con le mani molto vicine al muro sarà anche facile perdere l'equilibrio dalla parte opposta. Se abbiamo in questo frangente sufficienti dimestichezza possiamo cercare di staccare un piede, staccare poi quell'altro e cercare di mantenere l'equilibrio. Lo sbilanciamento laterale di caduta lo effettuiamo solo se perdiamo l'equilibrio. Infatti vedo tantissimi anche allievi miei che quando iniziano a praticare pensano di dover forzare questo sbilanciamento laterale. Lo sbilanciamento laterale non è un esercizio, non deve essere svolto diciamo apposta, ma se non in un primo momento per allenarsi, ma diciamo che è quello che ci viene in soccorso solo quando stiamo cadendo. Quindi se non c'è nessuna caduta tecnicamente non c'è bisogno di effettuare alcuno sbilanciamento laterale. È chiaro che quando siamo con le mani lontani dal muro dobbiamo un po' forzarlo, ma lì siamo in condizioni diciamo di equilibrio, siamo in una condizione più stabile in cui ci dobbiamo semplicemente abituare allo sbilanciamento. Però poi quando ci troviamo in una condizione con le mani molto vicine al muro non dovrà essere una cosa che andremo a forzare, ma dovrà venirci abbastanza automatica grazie agli allenamenti già fatti in precedenza. A questo punto però quando le mani sono molto vicine al muro c'è il rischio che lo sbilanciamento laterale con solamente una gamba non sia sufficiente a salvarci in tempo, perché se ritardiamo un po' questo recupero dalla verticale rischiamo comunque di cadere dall'altra parte. Un atteggiamento che secondo me è molto più comodo è che una volta che è stato imparato è efficacissimo a impedirci di cadere dall'altra parte, è fare perno su un braccio, quindi spostare tutto il peso su un braccio e spostare quell'altro subito davanti, in maniera tale da creare una base d'appoggio stabile per la nostra discesa a piedi alternati. Questo infatti è lo spostamento che ci impedisce totalmente di finire dall'altra parte e capite che ne avete acquisito il controllo completo quando riuscite a farlo senza pensare, cioè quando riuscite a praticare la verticale e quando cadete il vostro corpo in automatico si sposta in questo modo. Una volta che abbiamo acquisito sufficiente padronanza delle propedeutiche e delle varie varianti al muro, varie varianti, ok, possiamo iniziare a praticare tranquillamente liberi, quindi senza nessun muro. In video state vedendo ovviamente una pratica da strada, quindi su un pavimento anche pericoloso, consiglio superfici morbide le prime volte, io ovviamente per registrare il video avevo questa, la verticale la so fare, perciò non mi è cambiato assolutamente niente, ma invito sempre il praticante a mettersi nelle condizioni di maggior sicurezza possibile, soprattutto ai primi tempi. A questo punto quando siamo liberi e riusciamo a praticare dovunque vogliamo, in qualunque momento della giornata anche, è da qui in poi che inizia il vero allenamento sulla verticale, perché l'equilibrio purtroppo non si riesce a prenderlo dall'oggi al domani, ma serve tanta tanta pratica. Il primo step, quello che abbiamo anche visto e che abbiamo cercato di raggiungere negli elementi visti in precedenza, serviva soltanto a toglierci la paura e a metterci in una condizione di confidenza con la verticale. Adesso che siamo tranquilli e possiamo allenarci, diciamo, con tutta calma, è arrivato il momento di macinare tantissimi tentativi di verticale libera per cercare di acquisire il controllo completo di questo movimento. Invito comunque a non avere fretta perché serve tempo, mesi, anche un anno tranquillamente per prendere una verticale libera e perciò non bisognerà avere fretta nel cercare di raggiungere questo elemento, ma vi consiglio semplicemente di godervi il percorso, di praticarla, di divertirvi anche tutte le volte che la sbagliate e prima o poi con calma e con dedizione e con costanza la verticale arriverà. Ragazzi io per oggi vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me fino ad adesso, ricordatevi di iscrivervi a tutti i canali per stare aggiornati sui video futuri e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti!